Martuccia, Emery, che c'è? Ehi, mi dà la scelta mamma. Cosa hai perso? La pallina? O ti stai mangiando il divano? Buongiorno, così. Stamattina cambio degli armadi, credo, non ne ho per niente voglia, proprio per niente, nulla, zero, meno, 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 sono già le dieci e mezza, ho sistemato la camera e il bagno e non ne ho per nulla voglia, ma devo farlo perché il mio armadio è in una condizione pietosa, oltre che, oramai è arrivata l'ora di cambiare, di fare il cambio degli armadi. Sempre se Marta è d'accordo. Ora, per comprendere il mio disagio, un po' piazzato sul letto, sto facendo una prima cernita, mi sono anche cambiate come sono tutte le caldane, fra le cose che dovrò tenere nell'armadio, questo qua, diciamo invernale, e quelle che vorrò portare di là. Il problema qual è? Che io volevo fare comunque una sorta di sistemazione armadi fatta con le scatole e con il metodo Marie Kondo, ma penso che questo per me non sarà l'ideale. Ora mi darò da fare a cercare di capire e sistemare le cose, ma la vedo dura come tutti gli anni. Urge caffè sul serio, io sono nella penombra, perché ho la luce dietro, vabbè, meglio che non mi vediate. Urge caffè, vi dicevo, perché gli armadi si sta rivelando più difficili di quello che credevo, nel senso che comunque sto cercando di sistemare veramente, non dico definitivamente, ma quasi, e quindi si sta rilevando complicato. È più alto faticoso, cioè io vorrei poter fare le cose erate, ma non si può, e per cui devo dormire stasera, quindi il letto devo rivelarlo. Ora, mezzo Marie Kondo e mezzo Cristina abbiamo sistemato l'armadio. Ora, vi dico un po' le cose, ho qualche cosa di là, sempre di appeso, qui ho appeso le cose che erano oggettivamente impossibili da non appendere, perché comunque ci sono anche qualche abito, qualcosa che va appeso. Qui ci sono i jeans, che io porto raramente, ma porto, e qualcosa che porto molto di meno, diciamo, del tutti i giorni. Qui ci sono magliette, maglioni, diciamo, invernali, autunnali, eccetera, magliette, sempre a manica lunga, un pochino più elegantine, quelle che porto, insomma, quando, diciamo, esco. Qui ho messo tutti i leggings, io ho ripiegato con le scatole che avevo, perché non ne ho comprate più, ma conto di comprare altre. Comunque qua ci sono, spero che voi riusciate a vedere, sono piegati anche un pochino alla, come si suol dire, ma qui ci sono tutti i miei leggings, che sono i leggings e anche pantaloni normali, quasi tutto da Decathlon. Sono i pantaloni che io porto più spesso. Non ci stavano sotto, perché non ce l'ha posto. Io avrei voluto fare, diciamo, le cose che porto tutti i giorni qui sotto. Io sono praticamente il 70% del tempo in casa e comunque per l'80% della mia vita vestita sportiva. Di conseguenza questo è il mio abbigliamento di tutti i giorni. Sono per lo più felpe, maglie, magliette e magline e le ho messe in questa scatola Ikea. Qui ho messo tutte le magliette a maniche lunghe di cotone e qua l'ho infilato qui per comodità, ma comunque potrei metterlo anche qui sopra, perché purtroppo qua non ci sta. Quest'altro contenitorino dove c'è qualche maglietta a maniche corta, un paio direi, e ci sono le canutire. Ci sono altre cose che sono a lavare in questo momento, quindi questa si riempirà e si riempirà anche questa. Qua ho messo il profumatore che mi avevano regalato a la Maison de Parfum, fumatissimo, sa di borotalco e l'ho messo qua dentro perché mi piace. Adesso sto, vabbè, quelle sono cose che ho deciso di eliminare perché sono cose che oggettivamente erano vecchie e usurate. Adesso sto sistemando, come vedete che sono in fila qua, le federe che io avevo messo in un posto molto scomodo in cui non trovavo mai un tubo e usavo sempre le stesse tre di federe, sono riuscita a liberare un cassetto per la precisione, il secondo cassetto di questi qua, per cui lo utilizzerò per le federe. Tutta la roba che c'era buttata sul letto era dentro buttata a palline. Adesso, io, questo è un armadio Ikea di quelli Pax, vedete che ha tutti i buchini, quindi può essere sistemato come uno vuole. Ho intenzione di comprare quei bei cassettoni che escono perché secondo me sono molto più comodi se con questo metodo mi trovo bene, dato che comunque non avevo scatole per fare tutto e queste potrei utilizzarle peraltro. Sono poi riuscita a vuotare, ora non traumatizzatevi, vedete questo angolo qui? Qui ci sono alcune federe che sono federe che non stavano nel cassetto che vi farò vedere e lì sotto ci sono buttate alla proprio come... Foulard, Sharp, Sharpini, io è un accessorio che utilizzo tantissimo. Soffro di cervicale ma comunque mi sono abituata ad avere il collo coperto quindi se non uso felpe o cose che hanno comunque il collo coperto io ho sempre un foulard. Le sciarpe, quelle invernali, proprio ce le ho nell'altra stanza, anche quelle comunque dovrò trovarci un'estimazione. Questi li ho messi qui in attesa di capire dove metterli, non li voglio buttare perché comunque sono nuovi anche se sono inguardabili. Essendo riuscita appunto a vuotare un cassetto qui sotto, ho messo qua sotto tutte le federe. Ora, sono piegate malissimo ma non importa, sono tutte federe comunque che non si adattano molto al mio arredamento nel senso che non sono in suola prese, scusate federe prese pensando al mio arredamento ma mi sono state nella maggior parte regalate e comunque sono ancora buone e assolutamente non ho nessunissima intenzione di buttarle perché sono di ottima qualità molte di loro sono di marca e le cose buone non si buttano, punto cioè, punto e via, quelle punte a capo. Io ne ho così tante perché la maggior parte, allora, molte di queste arancioni mi sono state regate quando mi sono sposata da delle persone, insomma, che magari non erano invitate al matrimonio mi hanno regalato le lenzuola, mi hanno fatto dei regali così, molto carini ma molte di queste lenzuola io le ho ereditate, tra virgolette, da mia madre quando ha fatto il secondo trasloco l'etisodio è singolare, nel senso che quando mia mamma ha fatto il primo trasloco e che ha venduto la casa dove io praticamente sono cresciuta io mi ricordo ancora quel giorno quanto abbiamo riso perché io andavo a aiutarla a fare questi scatoloni e è arrivato il momento di liberare il mobile dove c'erano le lenzuola e le federe e sono rimasta traumatizzata tant'è che gli ho chiesto, lei viveva sola ai tempi e gli ho chiesto, mamma, ma non è che hai affittato la mia camera cioè, aveva più lenzuola e federe di un albergo o di un bed and breakfast e ne abbiamo anche buttate tante di quelle vecchie e lei ne ha altre tante, a caso io non so cioè, avrà una sorta di ossessione per le federe per il giorno avrò il dentista, io cammino, cammino, cammino il mostro, non so se lo vedete, è lì non vuole entrare, vuole che io tenga aperta la finestra cioè, così mi entrano ogni sorta di cinice in casa no, Marta sì, ma nella mia sistemazione dell'armadio proseguirò comunque quando comprerò altre scatole o i cesti o vedrò sono comunque molto comode quelle scatole Ikea che hanno anche il coperchio perché, se ci pensate bene se si riesce a restare tra virgolette ordinati con questo tipo di sistemazione il cambio degli armadi diventa una stupidaggine mai vista perché voi prendete la scatola ci mettete il coperchio prendete magari le eventuali altre scatole con l'abbigliamento adatto alla stagione e li mettete al posto di quelle potete riporre le cose lontano da polvere lontano da tutto in modo molto comodo e soprattutto veloce perché per me il cambio degli armadi essendo una disordinata cronica è veramente una cosa distruttiva infatti ieri sera ero una pezza da pavimenti ero stanchissima vi mando un enorme bacione come sempre alla prossima ciao ciao